Un nuovo video, oggi siamo qua su un blog dove volevo dire che se avete visto il video che ho fatto, l'ultimo video che ho fatto, ho fatto il video su Call of Beauty Ghost Avete notato che non era come li faccio di solito, era proprio con tutto lo schermo, si 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 che mi sono fatto l'account sulla Playstation, posso fare i video della Playstation e li farò così Però la brutta cosa è che non posso parlare, perché non ho il microfono, ma poi questo microfono me lo comprerò qualche giorno o mai No, scherzo, lo comprerò, comunque anche la webcam se volete, così posso fare questi video E ora io sto mettendo un altro video, che ho fatto ora, e si deve caricare, per questo faccio questo video prima della Vi è simpappinato il cervello, lo so Allora, ho fatto prima il video quello là che sto mettendo Poi, sto facendo questo quando quello sto scaricando Se non avete capito, commentate e spolliciate No, o mettete non mi piace Vabbè Oh Che cos'è successo? Mamma mia E' schizzato E' schizzato fuori il coso Aspettate raga Che rampale Mamma mia Aspetta Scusate Che rampale Vabbè Ecco Di nuovo, eccoci di nuovo Non chiudete questo video Vabbè Allora, quindi Io voglio vedere questo Anche che comincerò a fare sempre i video così E se non vi piace E se non vi piace Mi comerò molto presto questo discorso La webcam che in realtà ce l'avrei però Non so come si usa Allora, vabbè Quindi Allora Questo video è tutto Mettete un pollicione per il grande fail E Iscrivetevi Spolliciate Io sono scordato cosa dovevo dire E ci vediamo Allora Grazie Allora Allora Grazie.